Iniziamo la nostra cerca, siamo già nella zona in cui ci ho assegnato il capo, quindi per non disturbare abbiamo deciso di lasciare la macchina in un posto lontano e adesso ci avviciniamo alla zona che abbiamo scelto per fare il prelievo, quindi partiamo, carico e iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.